Serate di gusto con il gastronomo Piero Cantore. Il consiglio giusto per gustare qualcosa di particolare nella nostra cosenza. Questa sera voglio raccontarvi del panino, fuori menù di giugno dell'ST. Patrick's di Rende. Come sempre tengo a precisare che il pane è artigianale. Io vi devo essere sincero lo adoro. In più tutte le salse vengono realizzate da loro, e si sente che hanno quella spinta in più. Ma adesso passiamo alla composizione. Come ingrediente principale c'è il petto di pomo impanato nei conflux. Così da donare quel crank più deciso. Proprio come piace a me. Poi sul pane reso croccante come primo ingredienti viene inserita la lattuga quella romana a fette. Poi i pomodori rossi sempre a fette. Al centro viene inserito il petto di pollo. Sopra la scamorza affumicata, la cipolla caramella realizzata sempre da loro molto equilibrata, a completare il tutto le loro salse la maionese e la salsa piccante. Alla vista un panino straordinario che dei colori ben organizzati. Al palato risulta molto equilibrato. Tutti gli ingredienti risultano in armonia tra di loro. Ottimo il contrasto tra il crank del pollo e la morbidezza della scamorza affumicata. La lattuga ed il pomodoro fanno benissimo il loro lavoro, ripulendo la bocca per il boccone successivo. Ed infine ottima la scelta di inserire la cipolla caramellata che con la sua dolcezza contrasta in modo magistrale. La salsa piccante dona quello sprint in più che non è proprio male. Alla prossima degustazione guidata. Serate di gusto con il gastronomo Piero Cantore. Il consiglio giusto per gustare qualcosa di particolare nella nostra cosenza.